Ciao a tutti, ciao, eccoci qua, Vachito, oh che belle carote, bio? Bio, tutto bio, questi sono dei miei alberi, i miei alberi, non pensate che tengo una coltivazione, un albere di albere, un albere di limone, di limoni, alberi di limone, guardate come sono, guardate, tutti macchiati perché sono proprio naturali, senza antichitto, senza vele, senza niente, naturali e biologici, va bene, E che facciamo? Quindi facciamo il succo classico vitaminico, arance, carota e limone Ace, succo ace che piace a tutti, è buonissimo E poi è il succo che contiene più vitamine in assoluto perché tu considera stanno arance e limoni, vitamina C a volontà Poi ci sono le carote dove c'è la vitamina A, antiossidanti, beta carotene, quindi fanno bene per l'abbronzatura, contro le rughe, per mantenere la pelle morbida, giovane, per i capelli, ma anche per la salute dell'organismo Veramente sono una botta di vitamine, vero Vachito? Sì, sì E combatte pure i danni del raffreddore, previene l'influenza Pure a prepararle è una soddisfazione E' bello perché poi con le tue mani fai qualcosa di buono, veramente di buono perché poi è saporito a parte tutto Fai qualcosa di buono per la tua salute E che ti fa bene La cucina rilassa moltissimo E però tu lo fai anche con molta passione, ti piace troppo Molta passione a me serve proprio per rilassare Prima di tutto, centrifugiamo le carote Ok, la primissima cosa Basta pure i cookie Amore che c'è? E un salutino a tutte le tue fanno Bapau, bapau E lui è piccolo e anche molli E ora sono i nostri spettatori Adesso il limone Perfetto Premiamo il limone Limone biologico E arancio Guardate questa arancia com'è grande Un'arancione enorme Ma è più grande della tua testa Paguito E guarda Vabbè Ma è l'importante il contenuto La mia testa Sarà anche normale Ma all'interno c'è molte cose Molta materia grigia sai Più del normale Vabbè che ho le arance Mamma che belle Bellissime Tutto frutto È vero La buccia è sottile Sottile Guarda Sono bellissime È troppo buona È troppo buona È quella anche da mangiare così Guardate È troppo buona È buonissima Poi potete fare anche l'insalata di arance È vero? Buonissima A mia mamma È troppo buona È troppo buona Un filo d'olio Un po' di sal E che vi mangiate? E vi ho detto un'altra ricetta E quando ha segreto? Ma a chi tosta quine si aggretto Carota Versiamo Arance e limone Arance, arance, carota e limone guardate che bel colore sono i colori che sono belli e voilà un bel bicchierozzo di succo ace tutto naturale e biologico con queste proporzioni poi che noi lo facciamo sempre bevi neanche la giusta dolcezza non c'è bisogno che l'ho dolcificato mescola un po' col cucchiaino e bevi assaggiamo tu sei tappeto com'è buono è buono, è buonissimo è proprio rinfrescante buono 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 mi piace troppo veramente bravo Pachito non ti smentisci mai speriamo che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video io penso alla vostra salute com'è bravo dite la verità è troppo bravo con questo ho dato il massimo e manda un bacio a tutte le tue famose vostre salute sono un cuoco salutista un cuocchino salutista cuoco salutista Pachito rera cucina solo roba sana e genuina mi sono superato ho fatto pure la riva solo roba sana Pachito rera cucina solo roba sana e genuina con questo mi sono superato è vero è buonissimo è buono veramente alla vostra salute un bacio alle tue fan ciao alla prossima